Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Questa domenica incontriamo delle incomprensioni vissute da Gesù, due discussioni con i familiari e alcuni capi religiosi che ci permettono di fare un serio e decisivo viaggio nel nostro cuore, prestando attenzione a un grande rischio, per dirla con Isaia 5,20, scambiare il bene con il male e il male con il bene. Vediamo un po'. Innanzitutto abbiamo la difficoltà che Gesù incontra con i suoi familiari. Per capirla dobbiamo pensare un attimo alla vita di Gesù. Arrivato a circa 30 anni, Gesù inizia la sua missione pubblica e rompe con gli schemi culturali e religiosi del suo tempo. Lascia la casa, il lavoro, diventa un predicatore itinerante, povero, gira città e villaggi, seguito da un gruppo di uomini e persino di donne che lo sostengono con i loro beni. Nel Vangelo lo vediamo mentre insegna in un luogo non abituale, in una casa, senza aver nemmeno il tempo di mangiare. Insomma, Gesù è completamente dedito alla sua missione, alle cose del padre e si spende per gli altri senza riserve. Ai familiari di Gesù però, questo sembra troppo, per loro è impazzito. Per di più questo suo modo di fare getta discredito sulla sua famiglia, quindi vanno a prenderlo per riportarlo a casa della serie Fermiamolo prima che sia troppo tardi. Pensate, Dio che si fa uomo viene preso per pazzo, per esagerato dai suoi familiari. Qual è il loro problema? Loro vogliono bene a Gesù, ma è un bene carnale, mondano. In fondo vorrebbero proteggerlo, perciò vanno a riprenderselo, lo considerano ancora come un loro possesso. Potremmo dire che gli vogliono bene ma a modo loro. Pensano di sapere meglio di Gesù qual è il bene e rimangono incastrati in questa loro idea senza rendersi conto che in realtà stanno scambiando l'amore più grande di Gesù per pazzia. Pensano che sia male ciò che invece è bene. Vedete, miei cari, qui abbiamo qualcosa a cui prestare molta attenzione, perché può ingannarci più spesso di quel che pensiamo. È come nel caso dei parenti di Gesù, non per cattiveria, ma per forma mentis, per cultura. Facciamo qualche esempio semplice. Partiamo dall'esperienza quotidiana. Quante convinzioni, frutto del nostro contesto, ci sembrano buone ma in realtà non lo sono. Un proverbio? Ognuno per sé, Dio per tutti. Evviva l'egoismo! O pensate in un contesto omertoso o un po' mafioso, uno che si pente e denuncia e visto come un traditore. Siamo finiti al contrario. Oppure, avvicinandoci al caso del Vangelo, un tuo amico, tuo confratello, una tua consorella o tuo marito, tua moglie, ha una marcia in più nel cammino di fede. Prega di più, è più generoso nella carità e a te quel di più dà fastidio. Lo consideri troppo e anziché apprezzare e prendere esempio, magari critichi pure. C'è un bene più grande ma tu lo consideri come un male. O pensate ad un giovane che sente di corrispondere alla chiamata di Gesù nel sacerdozio o nella vita consacrata e magari trova ostacoli proprio nella sua famiglia. È impazzito? Questo è troppo? Che bisogno c'è? Puoi essere un bravo cristiano anche restando nel mondo? Ecco, miei cari, gli esempi si potrebbero moltiplicare. Ma qual è il problema di fondo? È il bene, secondo me. Pormi come criterio assoluto di discernimento. Restare chiuso nelle mie convinzioni arrivando a scambiare addirittura il bene con il male, con il rischio di tarpare le ali a chi ama più e meglio di me. Per evitare ciò e crescere dobbiamo aver cura della vita interiore. C'è da avere un cuore da discepoli, essere persone sempre disposte a imparare, a mettersi in discussione. Noi abbiamo bisogno che sia Gesù ad insegnarci ad amare, perché è Dio che ci insegna il vero bene. Ecco allora l'importanza del contatto quotidiano con la parola di Dio, formarci con l'insegnamento della Chiesa, confrontarci e farci accompagnare spiritualmente per crescere nel discernimento. E insieme a ciò, miei cari, dobbiamo imparare da Gesù. Notiamo, i parenti vanno a prenderlo per portarlo a casa e lo mandano a chiamare, ma Gesù non si lascia tirar fuori dalla sua missione. In un certo senso li invita ad entrare dentro quella casa dove lui insegna, dove c'è la comunità, dicendo chi fa la volontà di Dio è per me fratello, sorella e madre. Ecco Gesù vuol portarci dentro questa familiarità con lui e apre a quella famiglia meravigliosa che è la Chiesa, la famiglia dei figli di Dio, di coloro che hanno Dio per padre e la sua volontà come orientamento di vita. Ecco miei cari, se vogliamo davvero imparare ad amare abbiamo bisogno di mettere al centro il Signore e la sua santa volontà e chiedergli la grazia di perseverare. Sarà l'amore vissuto e donato che potrà toccare e lavorare il cuore di chi qui ed ora non ci capisce. La seconda incomprensione che Gesù affronta è quella con i capi religiosi. Qui il problema si radicalizza al punto che accusano Gesù di essere un indemoniato. Come si può arrivare a tanto? Allora, c'è un bene evidente che Gesù compie esorcismi, guarigioni, conversioni, ma attenti a due cose. Primo, Gesù non rientra nei loro parametri, non è come loro se lo aspettavano. Secondo, quel bene che Gesù compie li scomoda, mette in discussione il loro potere. È un rimprovero per la loro religiosità di facciata e non sono disposti ad ammettere la verità e arrivano a calunniare addirittura Gesù dicendo che sì fa dei miracoli ma opera prodigi in nome di Belzebul, in nome del demonio, quindi sì fa del bene ma per fare un male più grande. Ecco arrivano a calunniarlo pur di distruggerlo, non sono disposti ad ammettere la verità e ad aprirsi alla conversione, a chiedere perdono. Ecco perché Gesù, mosso dall'amore, mette in guardia con forza. Anzitutto rileva l'assurdità di quanto dicono. Ma come potrebbe il diavolo scacciare se stesso? Quale casa regge se è divisa in se stessa? Se il male è sconfitto è perché è arrivato il più forte, è chiaro, no? Perciò fate attenzione, perché tutti i peccati saranno perdonati, anche tutte le bestemmie, tranne quello contro lo Spirito Santo, cioè ostinarsi contro la verità senza essere disposti a ravvedersi. Mie cari, siamo davanti al mistero profondo e tremendo del libero arbitrio, la possibilità che abbiamo di arrivare addirittura a chiuderci alla grazia sino a questo punto. Allora, miei cari, dobbiamo fare davvero attenzione alla nostra vita spirituale, perché queste dinamiche, con sfumature e intensità diverse, possono affacciarsi al nostro cuore. Ecco perché il monito di Gesù deve portarci a fare un viaggio nel nostro cuore. E per lavorare su noi stessi ci diamo tre punti. Il primo è avere un contatto reale con noi stessi e chiamare le cose per nome. Il diavolo è come un ladro, finché agisce di nascosto, al buio e tranquillo. I giochi cambiano quando gli si punta la luce addosso. Cioè, se non do un nome ai pensieri e ai sentimenti che coltivo dentro di me, nascondo me stesso a Dio e diventa un problema. Se sono invidioso e non lo voglio ammettere, potrò cercare di giustificarmi in tutti i modi. Addirittura potrò camuffare la mia invidia con senso di giustizia, fare i chiodi alle persone per mettere in luce peri o eventuali errori, arrivare addirittura a calunniare per denigrare l'altro trovando scuse di ogni tipo. Ma in realtà il problema è che sono invidioso. Allora, miei cari, non dobbiamo aver paura di tirar fuori ciò che non va, di chiedere perdono, di aprire il cuore alla grazia, di confessarci. La vergogna è bene attraversarla, è come una strettoia per giungere alla libertà, alla gioia del perdono. Nostro Signore non ha paura del nostro peccato, non si stupisce delle nostre contraddizioni. Col suo amore viene per risollevarci e darci sempre vita nuova, darci sempre la grazia di ripartire e crescere nell'amore. Secondo punto, per avere una coscienza illuminata, abbiamo bisogno di frequentare Gesù, la Sua parola, i sacramenti. Come dice il Salmo, alla tua luce vediamo la luce. Abbiamo bisogno di essere dunque persone che pregano, che si lasciano illuminare dalla parola di Dio per non correre il rischio, come abbiamo visto, di scambiare il bene con il male e arrivare addirittura a coltivare il male dentro di noi scambiandolo per un bene. Il terzo e ultimo atteggiamento da coltivare è saper riconoscere e apprezzare il bene da qualunque parte arrivi. Questo anzitutto tocca il rapporto con Dio, perché noi siamo vittime di un inganno originale, dubitare di Dio, non credere al suo amore, pensare che venga a toglierci qualcosa, che ci sia la fregatura di fondo. No, miei cari, Dio è amore, è solo amore, e ci dà soltanto ciò che è il nostro vero bene. Vivere sotto questo sguardo d'amore è la chiave per diventare a nostra volta cercatori di bene negli altri. Imparare a riconoscere, apprezzare, valorizzare il bene, anche solo a partire dal dire grazie per quello che gli altri fanno. D'altronde, miei cari, come diceva Santa Teresina di Lisieux, in Paradiso tutti riconosceremo i meriti gli uni degli altri, e sarà il cielo proprio perché non ci sarà più invidia, ma con gioia sapremo ringraziare, valorizzare il bene compiuto dagli altri, sentire il bene degli altri come se fosse il nostro e gioire gli uni degli altri. Allora, miei cari, se questo è il sogno di Dio, se questo è il cielo, chiediamo al Signore di poterlo già vivere un po' qui e costruirlo attorno a noi. Alleniamoci a gioire delle cose belle che ogni giorno ci vengono donate, a rallegrarci per i piccoli atti di virtù degli altri, a ringraziare per il bene che compiono, e allora sì che in noi e attorno a noi potremo saggiare e far sperimentare agli altri quella felicità che solo il vero bene e l'amore sanno regalare. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!